Non volevo ucciderlo ma solo spaventarlo. Ha deciso di raccontare la sua verità il GIP Silvio Maras, in sede di udienza di convalida, il 31enne di Montebelluna Gianluca Gallina, arrestato lunedì sera dai carabinieri dopo aver investito il vicino di casa, il 59enne Mario Martignago. Sentito nel carcere di Santa Bona, il giovane ha spiegato come lunedì sera si è assalito a bordo del suo fuoristrada per intimorire Martignago dopo una furibonda lite tra vicini. In realtà si è trattato di un incidente causato dal repentino intervento e balzo in mezzo alla strada di un terzo soggetto per evitare il quale il signor Gallina ha perso il controllo della macchina e poi è finito addosso al Martignago. Altra colonna su cui poggia la tesi della difesa è la circostanza che sia stato lo stesso Gianluca Gallina a chiamare i soccorsi dopo l'incidente e che quindi non sarebbe stato mosso dalla volontà di uccidere. Nel frattempo restano serie ma stazionarie le condizioni di Martignago in terapia intensiva il cafoncello. Non sarebbe in pericolo di vita. Noi siamo adesso in attesa di capire quali saranno le valutazioni del dottor Maras e del dottor De Biasi in merito alla posizione del signor Gallina. La difesa ha chiesto la modifica della misura cautelare affinché Gallina possa essere trasferito agli arresti domiciliari, decisioni la cui riserva verrà sciolta dal GIP nei prossimi giorni.